Buona giornata sabato 27 marzo apriamo l'edizione di urna del tv giornale di telestense come sempre diverse saranno le notizie torneremo ad occuparci delle proteste venute ieri in piazza in particolare contro la didattica a distanza parleremo anche di alcuni arresti avvenuti per droga e ci occuperemo nuovamente dell'incendio di poggio renatico dell'altra notte e faremo un'analisi anche politica con il bilancio di previsione 2021-2023 quelli che saranno gli investimenti per la città di ferrara ma cominciamo subito dall'emergenza covid contagi in calo ma purtroppo ancora decessi nelle ultime 24 ore sentiamo tutti i dettagli nel servizio meno nuovi positivi rispetto a giovedì su molti più tamponi effettuati e questo è il dato migliore del bollettino odierno 166 nuovi positivi nel ferrarese in calo appunto rispetto giovedì quando si registrò un boom di nuovi contagi 133 nuovi guariti dato in linea rispetto al giorno precedente non si fermano purtroppo i decessi per probabili complicazioni apportate da covid nel ferrarese tre persone due uomini e una donna tra gli 81 e 94 anni 43 invece le vittime nel resto della regione la pressione rimane molto alta negli ospedali ferraresi in cui sono ricoverati i pazienti affetti da coronavirus l'aggiornamento in emilia romagna vede su oltre 32 mila tamponi effettuati quasi 2400 nuovi positivi dato simile a quello dei nuovi guariti più di 2300 e in regione calano i ricoveri capitolo vaccinazioni dosi in calo quelle somministrate nel ferrarese rispetto al giorno precedente giovedì quasi 1800 somministrazioni inoculate che fanno andare le vaccinazioni da inizio campagna vaccinale a quasi 70 mila nel ferrarese ed è stata una giornata movimentata quella di ieri tra i vari circhi e luna park che praticamente da un anno sono senza lavoro e reddito per colpa della pandemia afferrare la protesta di tanti imprenditori della regione emilia romagna che chiedono di riaprire l'attività in sicurezza per la stagione 2021 ormai alle porte vediamo un anno di chiusura quasi totale centinaia di luna park e circhi annullati in tutto il paese migliaia di famiglie senza lavoro e un reddito la categoria dello spettacolo viaggiante senza dubbio tra le più colpite dalla pandemia da covid 19 ma forse troppo spesso dimenticata per questo è stata organizzata in molte piazze italiane tra cui ferrara una protesta pacifica e spettacolare con la richiesta già presentata anche al ministro dario franceschini di ripartire in sicurezza per la stagione 2021 abbiamo organizzato a ferrara ma in contemporanea a cagliari a milano torino in undici città in undici grandi città questa manifestazione dello spettacolo viaggiante dove chiediamo di essere presi in considerazione per le riaperture per per essere aiutati anche comunque sia comunica economicamente perché la situazione purtroppo ci tiene ferma da tredici mesi abbiamo lavorato due mesi la scorsa estate ma col freno a mano tirato vista la situazione e abbiamo avuto questa idea assieme agli altri nostri colleghi praticamente di creare un un'unica manifestazione dello spettacolo viaggiante dalle giostre ai trenini dai gonfiabili ai banchetti con lo zucchero filato e i dolci dai giochi ai calcetti tutta la magia che si racchiude nell'una parca e al circo tradizioni secolari che chiedono di ritornare al lavoro abbiamo tre tagadà autoscontro giostre bambini io sono a lido di spina al mare ho comprato il terreno è mio faccio luna park lì che tutta la gente dicono l'angolo più bello di lido di spina perché ho creato diverse attività io ho 70 anni non è mai successo un incidente non abbiamo mai creato problemi vuol dire vuol dire che c'è una certa professionalità nella propria responsabilità sia da parte di di chi viene a soffrire dello spettacolo viesante perché quando non succede niente vuol dire che la gestione è fatta bene diciamo però è importante che le amministrazioni comunali capiscano che c'è un settore diciamo che non ottengono molto lo tengono quando li fa comodo per toggione poi finito la manifestazione siamo inesistenti invece le amministrazioni comunali dovrebbero far peso perché fa parte di un di una storia il nostro lavoro è fatto di di aggregamenti è fatto di di gente che si che si che si si ritrova ed è fatica soprattutto con i giovani distanziarli e tenerli e tenerli a bada noi abbiamo delle linee guida redate dalla regione con dei protocolli che siamo riusciti comunque sia a mettere in atto con più personale con la sanificazione del tutta l'attrazione con dei percorsi migliorati per poter lavorare e quindi si è partiti l'anno scorso a fine maggio e siamo arrivati al 24 ottobre dal 24 ottobre ci hanno bloccato del tutto nonostante ci siano attività più messe in difficoltà dove dove più facile che sia l'aggregazione rispetto a noi al chiuso magari che ancora lavorano mentre invece noi siamo stati fermati intanto anche a Ferrara come in oltre 60 città italiane i rimattini è stato tutto un flash mob in questo caso in piazza Savonarola per chiedere la riapertura delle scuole in presenza e in sicurezza a organizzarlo è stata l'associazione priorità alla scuola vediamo l'invito era quello di astenersi per un giorno dalla didattica a distanza e scendere in piazza portando con sé scarpe di tutte le misure anche vecchie o rotte oltre a cartelli e disegni è il flash mob organizzato anche a Ferrara dall'associazione priorità alla scuola per rimarcare che ora di smetterla di fare le scarpe alla scuola pubblica abbiamo organizzato un flash mob per chiedere la riapertura delle scuole in sicurezza perché la dad non è vera scuola noi chiediamo misure di sicurezza per poter far lezione in presenza è la nostra il simbolo di questa manifestazione in tutte le città d'italia saranno le scarpe che posizioniamo qui sul luogo in cui ci troviamo perché senza la scuola l'italia non cammina e non si va da nessuna parte scarpe in fila appoggiate sui san pietrini della piazza che hanno collegato due monumenti della città con un significato ben preciso per gli organizzatori a sottolineare con un percorso di denuncia lo stato di abbandono in cui versa l'istruzione del bel paese essendo Ferrara una città con un simbolismo particolare abbiamo congiunto con le scarpe e la lapide degli antifascisti fucilati nella notte del 43 e il monumento a Savonarola perché gli antifascisti morirono anche per una scuola pubblica di tutti e Savonarola il simbolo della protesta protestava per i diritti del popolo e noi ci riconosciamo in questi due simboli nell'antifascismo e nel diritto a una scuola pubblica protestando in sicurezza e quindi è venuto spontaneo avendo nell'arco di 10 metri due monumenti storici congiungerli intanto proprio pomeriggio è arrivata la notizia della riapertura della scuola fino alla prima media a dirlo è stato il premier Mario Draghi in conferenza stampa che ha aggiunto che il ministro Patrizio Bianchi sta lavorando perché avvenga in modo ordinato la scuola è un punto di contagio limitato solo in presenza di altre restrizioni ha detto il premier Draghi ciò che è fonte di contagio e tutto ciò che avviene attorno alla scuola quindi più si alza l'attività scolastica più aumentano le possibilità di contagio intanto però in conferenza stampa da palazzo chigi per chiarire i dubbi sugli orientamenti della cabina di regia e fare il punto sui temi che più tengono banco sui media e sull'opinione pubblica il premier Draghi è tornato sul criterio dell'età come prioritario nel programma delle vaccinazioni annunciate l'operazione trasparenza sui dati che da ieri appunto sono consultabili online sul sito della presidenza del consiglio e la linea dura sugli operatori sanitari che hanno rifiutato il vaccino vediamo il servizio vaccini in primo piano nella conferenza stampa rilasciato oggi pomeriggio dal presidente del consiglio Mario Draghi al termine del consiglio europeo dell'unione Draghi ha confermato sanzioni per gli operatori sanitari che hanno rifiutato il vaccino si è soffermato sulle misure decise dall'unione verso le case produttrice dei vaccini inadempienti ed è tornato ancora una volta sul criterio dell'età come criterio fondamentale per frenare gli esiti peggiori della pandemia letali soprattutto nelle persone più fragili negli ultrottantenni secondo i nuovi dati pubblicati sul sito governo.it e aggiornati alle 8 di stamani gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose sono il 48,74 per cento vaccinati con due dosi in molte regioni meno del 20 per cento tra le regioni che più hanno rispettato le indicazioni del ministero della salute oltre alla provincia autonoma di trento e la provincia autonoma di bolzano ci sono la basilicata e l'emilia romagna con il 30,18 per cento a ferrara dove il ritmo delle vaccinazioni si aggira attorno alle 2000 dosi somministrate al giorno la risposta dei ferraresi dopo il disorientamento prodotto dal caso astrazeneca sembra del tutto in linea con la programmazione provinciale in città nel grande hub di ferrara fiera l'organizzazione di con i cittadini vaccinati è persoché perfetta dall'accoglienza all'entrata da parte di un militare dell'aeronautica per il controllo della temperatura e la disinfezione delle mani al check-in davanti al banco del vaccino che è stato assegnato per ricevere il codice che guiderà al momento opportuno davanti al medico per l'anamnesi che confermerà o meno l'opportunità di ricevere la sua amministrazione assegnata di lì si passa al piccolo ambulatorio vaccinale quindi dopo la vaccinazione allo spazio assegnato per la sosta di controllo e per ricevere sempre secondo il turno assegnato dal numero di codice che apparirà al momento opportuno nell'apposito display il certificato di vaccinazione l'uscita e sul fronte opposto dell'entrata non c'è bisogno di tornare indietro la gentilezza del personale per ogni informazione davvero garantita ora i vaccini ci sono commenta una signora appena vaccinata sarebbe sciocco non approfittarne intanto in provincia il 58,6 per cento degli ultra 80 anni ferreresi al momento sono coperti col vaccino il 2 maggio prossimo l'ultimo ultra 80 anni che si è prenotato dovrebbe ricevere l'ultima cioè la seconda dose mentre un ferrerese estremamente vulnerabile su 10 è stato vaccinato con la prima dose ci si sta organizzando comunicato ieri la direttrice dell'azienda sanitaria provinciale di ferrara dottoressa monica calamai in conferenza socio sanitaria per la fase 3 della campagna vaccinale auspicando l'arrivo di più dosi arriveremo a 2300 somministrazioni quotidiane e ci stiamo preparando per raggiungere le 4000 dosi al giorno e adesso invece passiamo alla cronaca poco più di mezzo chilo di ascis suddiviso in panetti ovuli ordinato sul web è arrivato in un pacco proveniente dalla spagna lo hanno scoperto i carabinieri di ferrara che mercoledì dopo una perquisizione hanno arrestato tre giovani un operaio di 22 anni e due studenti di 21 e 22 anni gli arresti ieri sono stati convalidati e il processo è stato rinviato per i tre prima dell'udienza finiti ai domiciliari è stato disposto l'obbligo di firma giornaliero tutto nasce dalla segnalazione di un pacco sospetto in un deposito in consegna a un giovane del centro città i militari hanno contattato la società di spedizioni chiedendo di conoscere gli estremi del destinatario luogo data e ora della consegna si sono appostati nei pressi della casa e alle 14 sono stati notati tre giovani a tendere il corriere all'arrivo del furgone mentre uno faceva da palo gli altri hanno intercettato l'autista ritirato e firmato per la ricevuta i militari sono intervenuti a quel punto hanno aperto il pacco e trovato l'ascis con 551 grammi è stata fatta una perquisizione a casa dei tre e sono stati trovati bilancini di precisione funghi allucinogeni e contenitori in vetro ma anche un pacco vuoto del tutto simile a quello appena intercettato con data di consegna di gennaio 2021 dalla documentazione fornita dalla società di spedizioni i militari sono risaliti a un'ulteriore spedizione analoga ancora non andata a buon fine questo pacco risultava giacente al centro di smistamento di bologna con presumibile data di consegna per la prossima settimana con un decreto di sequestro giovedì pomeriggio i militari sono andati al centro e hanno aperto il contenitore sequestrando altri cinque panetti di asci per 494 grammi destinati a uno dei giovani arrestati adesso invece torniamo a occuparci del max incendio che la scorsa notte ha interessato l'azienda niagara di banca reno nei pressi di poggio renatico secondo arpa e non ci sarebbero problemi di inquinamento per le aree intorno al rogo vediamo diverse squadre dei vigili del fuoco al lavoro tutta la notte tra giovedì e venerdì per domare le fiamme altissime che si sarebbero sviluppate attorno alle ore 22 l'impresa niagara tratta rifiuti industriali e in uno dei capannoni dell'azienda si sarebbe sviluppato il rogo illesi i lavoratori che erano in turno nessun intossicato segnalato vista la presenza di sostanze pericolose rifiuti speciali che necessitano di trattamenti specifici sul posto si sono portati oltre i carabinieri anche il sindaco di poggio renatico daniele garutti investigatori al lavoro per tentare di capire le origini dell'incendio anche i tecnici di arpa e sono intervenuti con campionamenti intanto sarebbe emerso che il vento avrebbe consentito la dispersione dei fumi sprigionati dall'incendio verso l'aperta campagna ricaduta dei fumi che sarebbe avvenuta nella zona rurale circostante il sopralluogo svolto da arpa e nel centro abitato di poggio avrebbe consentito di escludere la necessità di interventi urgenti per la popolazione poiché scrivono dall'agenzia il centro abitato non è stato coinvolto direttamente dalla ricaduta dei fiumi emessi dall'incendio le acque di contenimento usate dai vigili del fuoco sono state contenute in attesa di uno smaltimento corretto arpa e ora sta valutando la necessità di effettuare altre indagini e adesso invece parliamo di trasporti una bella novità preannunciata proprio questa mattina dalla regione la ricerca all'ultimo istante del biglietto prima di salire a bordo sta per finire così inizia un comunicato dove si evidenzia che miglia romagna sarà la prima regione d'italia in cui per viaggiare su un bus basterà in tutta sicurezza accostare la propria carta di credito o debito oppure avvicinare smartphone o smartwatch all'apposito validatore per essere in regola con la titolo di viaggio anche se continuerà ad essere accettato il biglietto cartaceo tradizionale già entro quest'anno in tutti i capologhi di provincia e dentro 2022 nel resto della regione sarà infatti attivo le mv il sistema che aggiunge una ulteriore modalità di pagamento a quelle tradizionali e a quelle digitali già consentite dall'app roger attiva da oltre un anno e mezzo dopo il debutto sul marconi express la monorotaia che collega stazione dei treni all'aeroporto di bologna dove la tecnologia mv è già operativa da alcuni mesi il progetto di estensione dei nuovi validatori procederà fino alla completa copertura dell'intera flotta su gomma nelle quattro aziende della regione già dalla prossima settimana i validatori saranno attivi su una linea urbana sia a bologna sia a parma intanto nei giorni scorsi nel comune di ferrara è stato approvato con 20 voti a favore 12 contrari il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 vediamo dunque quali sono gli investimenti dell'amministrazione comunale sul territorio avendone parlato con l'assessore al bilancio matteo fornasini un bilancio di previsione che guarda la ripartenza post covid garantendo la prosecuzione dei lavori per le infrastrutture cittadine e quindi in aiuto alle imprese e quello approvato a maggioranza nella recente maratona di tre giorni dal consiglio comunale di ferrara per il prossimo triennio 2021-2023 per cui mettiamo a disposizione oltre 60 milioni di euro 20 di quota parte comunale per gli investimenti sono opere pubbliche interventi importanti per riqualificare l'intero territorio comunale dalla centro città a tutte le frazioni alle periferie e anche questo è un modo per mettere a disposizione liquidità e risorse per creare indotto e sostenere le attività che potranno occuparsi dei lavori nella nostra città inoltre mettiamo a disposizione importanti risorse sia per lo sviluppo economico che per le attività economiche soprattutto quelle più colpite da questa profonda crisi che purtroppo ci attanaglia da ormai un anno e mettiamo a disposizione risorse importanti per sostenere il turismo la promocommercializzazione turistica della nostra città e la cultura potenziando le iniziative e gli eventi di ferrara arte e sostenendo le tante iniziative i tanti eventi che speriamo il prima possibile possano riprendere in sicurezza nella nostra città confermata la diminuzione della pressione fiscale introdotta già lo scorso anno sempre nell'ottica di continuare a sostenere le imprese le attività economiche lo sviluppo della nostra città è un bilancio questo che nonostante l'impatto pesante del coronavirus anche sul nostro bilancio soprattutto sul lato delle entrate ma anche delle maggiori spese non abbiamo aumentato la pressione fiscale dei ferraresi anzi abbiamo confermato le riduzioni di tasse che abbiamo già introdotto nel 2020 e già quest'anno possiamo comunicare con questo bilancio ai locali pubblici ai bar e ristoranti che esentiamo azzeriamo completamente il canone occupazione solo pubblico per le distese ide or di locali pubblici bar e ristoranti un risparmio per queste imprese per queste attività di quasi 500 mila euro anche per quest'anno in vista della ripresa post covid dell'amministrazione comunale ha pensato ad un bando specifico per il rilancio del turismo per quanto riguarda il sostegno al turismo che è uno delle mie deleghe ma è soprattutto un importante volano su cui questa amministrazione sta mettendo a disposizione molte risorse abbiamo previsto per i prossimi tre anni un bando per individuare un soggetto privato che si dovrà occupare della promozione della commercializzazione della nostra città è un bando da 200 mila euro all'anno per i prossimi tre anni quindi 600 mila euro inoltre prevediamo sempre con questo bilancio triennale un maxi piano di investimenti di sostegno per le imprese 850 mila euro per le imprese per il prossimo triennio per sostenere tramite bandi le attività economiche la pandemia ha messo in ginocchio interi settori economici della città in vista della ripartenza l'amministrazione comunale sta lavorando in sinergia con altri importanti attori presenti sul territorio non voglio negare insomma che il clima è sicuramente pesante a distanza di un anno dall'inizio insomma di questa crisi veramente pesante però insomma ce la stiamo mettendo tutta da un lato come amministrazione ma in piena sinergia con le associazioni di categoria e la camera di commercio di ferrara per affrontare al meglio e speriamo il prima possibile di ripartire e anche con questo bilancio con l'impegno dell'amministrazione comunale siamo nelle condizioni di essere pronti a ripartire al meglio appena le cose lo consentiranno e chiudiamo il nostro appuntamento con il tv giornale di telestense anticipandovi una iniziativa molto importante di questa sera perché torna la divina commedia new musical in prima serata si chiama l'uomo che cerca l'amore uno spettacolo rappresentato 13 anni fa a ferrara con grande successo di pubblico sul sagrato della cattedrale ripreso allora dalla nostra emittente che ha deciso di rimandarli in onda appunto nelle due serate di sabato 27 e lunedì 29 marzo credendo di fare cosa gradita sia ai molti che se ne ricordano per averlo visto dal vivo e anche a chi curioso si troverà di fronte ad un continuo susseguirsi di effetti speciali di performance artistiche di grande valore appuntamento dunque questa serata mentre vi ricordo gli aggiornamenti della nostra informazione ovviamente su telestense.it e sui canali social ma anche questa sera alle 19 e 30 grazie dunque per averci seguito e a tutti buon proseguimento di giornata